La gloria, gloria La gloria, gloria Dal Vangeli d'Oscenzan Le veniu un nome manada a Die, si è il nome la rasan Le veniu desce testamonec per geder testimonianza all'alum Perchè che duc cerdesse tra sel Non era el l'alum, ma el cognea der testimonianza all'alum Questa l'è la testimonianza desan Cankè i Giudees i giamanada a Gerusalem preverse le viti a gedomaner fora Tu chi estepa? Ella confessà e non la ne ha La confessà, già non sono il Cristo In l'auta, i giadomanà Chi estepa, donca? Este Elia? No, non sono Elia, l'ha dit Este il profeta? No, l'ha risponet I giadit, donca Chi estepa? Perchè che poda sane, già dar una risponetta a chi che ne ha manà Chi diste di te in stessa? L'ha risponet Giesson laous, de un che c'igat il desert Valiva fora il troi del Signor Desche che ha ditt il profeta Isaia Chi che era stace in vie I venia dai farisei Icce il lodo manà fora E i giadit Perchè padonca te batesees Se notes il Crist Nè Elia e nienci il profeta? Giangia risponet Gi' batesee e te lega Ti mezza voi etres Le un che vono conoscete Quel che vendo da me A El, gi' no sondegn Dege descioler la vetta del sandalo Ch'est l'estate la Betania Dall'autraman del Giordan O la che zan Le radocche il batesea Parola del Signore Dio Glorio, glorio Glorio, glorio Viene scelta Dunca ben troè A sta terza domenia Della vent La che Una domenia Del dut Particolera Perchè E la domenia Gaudete Della gioia Dell'essere al Gégres Lì che Se ho ascoltato Il Vangelo E sono mio amico Il strano Che Viene metto A notare la figura De Saint-Jean Saint-Jean Che le sempre Sta una figura Piuttosto austera O a coca La se marida Con il fatto Della domenia Che le è la domenia Gaudete Dell'essere al Gégres Dell'essere contenti L'Evangelo L'ha una parola E molto bella Saint-Jean Le veniu A render Testimonianza Alla lume L'Evangelo Desce testimonianza Per geder Testimonianza Alla lume On sento E l'allume Sa un Che la porta Alegria La porta Che la voa Defer Che la scurse Che la scurse Che la scurse Che i Mosso Che la scurse F 있죠 Che la galizzo Questi due domenici passate, hanno detto da dove essere attenti, quindi la preghiera, dove hanno detto di si convertire. Ecco, questa settimana vuole dire, facciamo con fede il pregebe, facciamo come un atto di devozione, non facciamo tutto per farlo. Perdiamo che si è fatto del verso, ma nel momento in cui facciamo su, vuole dire, perché non pregiamo? E che anche mettiamo su la luce, perché non gli è persona al Signore Dio che l'è la luce? Io penso che la fede ha anche bisogno di queste cose molto concrete, un bisogno di toccare quasi con mano, del resto il Signore Dio non ha lasciato un sacco di concreto, l'Eucaristia, un tocco di panno. Proprio per dire che non vuoi una cosa di più di superiore, vuoi un sacco che sia in sé che tu ti potessi sentire, allora tutto quello che noi facciamo, potremmo vivere con fede e devozione. Ecco, voletevi lasciare proprio questo compito, questo impegno di questa terza domenica? Magari è già fatto il pregebe, non so, ma se l'è da modo di fare o di attaccare sui luci, facelo che sia un momento in cui c'è di fede, magari in cui c'è una preghiera con il cuore, e io domenere, Signore Dio, donami la luce del cuore, perché possa portare la luce, la voce, la gioia, l'allegrezza, agli entri. Buona domenica, tutti. Buona domenica, tutti.